ehi allora tutto a posto qui ti diverti con i tuoi nuovi amici si si sono simpatici allora pre che tieni sto muso no niente ora che ti vedo eh dimmi non so niente lascio perdere a me puoi dire tutto cos'è successo che succede no è solo è solo che mi piace uno ti piace uno carino è anche simpatico non mi guarda nemmeno pure da parigi e vabbè anche mamma non era di nettuno era di mustacciano però e poi adesso lo vedrai sempre victor no ma vuoi andare a vivere con toni in centro questa è una cosa che decidiamo io e te e nessun altro ok e te che dici di toni to ne daio bo za te wierze to ne vieni Grazie.